Nel mese di dicembre sull'Abruzzo sono arrivati 600 milioni di euro a vario titolo per coprire importanti investimenti o all'insegna della ricostruzione cantiere 2009 o cantiere 2016-17 riferito ai due terremoti oppure investimenti riguardanti il risarcimento a proposito del maltempo del 2017 o investimenti riguardanti per esempio il sistema ferroviario o investimenti riguardanti anche il sistema autostradale ricordiamo che abbiamo risolto anche il tema della copertura finanziaria degli investimenti sull'autostrada Teramo-Roma-Pescara-Roma però voglio ricordare agli abruzzesi che ogni 100 mila euro di opere pubbliche portano con sé 1,5 posti di lavoro annui ecco perché sono fiducioso che i 513 mila percepienti reddito da lavoro che abbiamo oggi secondo rilevazione Istat siano destinati ad aumentare anche grazie a questa massa notevole di risorse finanziarie. Questi sono tutti di provenienza statale non sono legati per un euro o all'indebitamento del bilancio regionale o alla fiscalità regionale sono tutti di derivazione del bilancio dello Stato nazionale. Oggi abbiamo le risorse finanziarie che sono l'un terzo per attivare poi la ripresa economica vera e propria perché un altro terzo è la qualità dei progetti e un altro terzo è anche la qualità delle procedure che si consegue attraverso pareri idonei e immediati. Noi chiameremo a raccolta sia il cervello che i cuori dei funzionari non possiamo perdere tempo per fare in modo che partano i cantieri e il cantiere è l'incontro tra la cosa da fare e l'operaio dell'impresa che poi si sporca la tuta di sé attraverso il cemento. Noi ci riusciremo a fare questo perché chiameremo a raccolta ogni funzionario che deve dire di sì perché non sono procedure neutre.